Presidente, domani si vince come oggi? Vabbè sulla nazionale però qualcosa... Buonasera Ministro 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 Presidente eravamo con la Presidente quando abbiamo vinto la prima volta nelle sei nazioni contro la Scozia, ci siamo anche oggi, ci siamo anche quando si perde, ma più bello quando si vince Quindi porta bene la Presidente I ragazzi della Nazionale hanno dimostrato un'altra volta che c'è da avere un cuore e altri attributi Ha parlato con la squadra, si è complimentato Siamo scesi tu negli spogliatori Anche la Bruzza è una grande tradizione reggistica Grazie